Patrizia Marchesini, Assessora allo Sport del Comune di Santa Margherita Ligure, ormai parlare soltanto della mezza maratona delle due perle della domenica è quasi riduttivo. Bisogna parlare del fine settimana nel suo insieme. Proprio un festival del clodismo che inizia il sabato con Portofinorano e Corrisanta e prosegue e si conclude appunto con la mezza delle due perle. E vengono veramente tantissime persone, perché nell'arco dei due giorni si possono settimare in oltre 1500 presenze. Sì, una manifestazione che sta assumendo appunto i caratteri sempre più ampi, considerando che la sua importanza è sui due giorni. Il sabato, una manifestazione che sta sicuramente crescendo, quest'anno l'undicesima edizione della Portofinorano e della Corrisanta, dove tante famiglie e tanti anche semplici amatori possono percorrere con un percorso magari più facile, perché è ridotto alla 10 chilometri e quindi è molto avvincente anche per tutte le famiglie che ci vengono a trovare in questo fine settimana, a cui si unisce la domenica sempre con la classica mezza maratona, ormai una tradizione alla diciassettesima edizione. Puntando sui due giorni è anche più facile fidelizzare la gente e tenerla qua diciamo tutto fine settimana. Sì, l'obiettivo appunto di fare turismo attraverso lo sport in questa formula è sicuramente più efficace, proprio perché abbiamo un fine settimana pieno nel quale tanti turisti possono venire a visitare la nostra città. Grazie.